La scuola a oggi, non lo voglio dire troppo forte, non abbiamo classi in quarantena, quindi sta funzionando tutto molto bene, nonostante abbiamo avuto un incremento altissimo di bambini, abbiamo dovuto implementare le classi, però siamo riusciti, perché forse abbiamo anche delle scuole con molti spazi, ad avere classi non più di 19-20 bambini. Quindi si riesce a mantenere il distanziamento, comunque devo dire che i ragazzi sono molto molto bravi, perché veramente loro tengono la mascherina, si igienizzano le mani molto più degli adulti. Gli insegnanti da noi non ci sono problematiche, perché a quanto mi risulta sono tutti in regola con il Green Pass, quindi per questo è positivo. E' chiaro che l'imprevisto è dietro l'angolo, sappiamo che sotto a 12 anni la dose di vaccinazione non era contemplata, non è obbligatoria, non c'è tra l'altro, adesso sembra che si può fare, però ancora tutto è stato embrionale. Vedremo. Io spero che continui così. Adesso il 15 di ottobre entrerà in vigore il Green Pass e quindi già qui sarà un'amplificazione del problema. Comunque a oggi i dati ci dicono che abbiamo 15 cittadini positivi. Il camper vaccinale che è venuto a settembre nell'arco di tre ore ha vaccinato 52 persone, quindi è un ottimo risultato. Adesso lo ritroveremo di nuovo il 21 ottobre, sia per i richiami che per le prime dosi per chi vuole venire e magari vaccinarsi e sarà presente dalle 9 alle 13. La situazione attualmente sembra ferma e pacata. È chiaro che l'estate non è stata passata molto facilmente perché, a differenza dell'anno scorso, quest'anno purtroppo invece ci sono stati dei casi di positivi anche nonostante il caldo. La situazione mi preoccupa, ma mi preoccupa perché abbiamo questa fascia di persone no Green Pass che chiaramente forse anche ha ragione, non so, devono farsi il tampone ogni giorno se un giorno no, quindi economicamente è un esborso. Però dall'altro abbiamo il governo che ci impone di far rispettare questa cosa, anche all'interno del comune, quindi anche qui abbiamo problematiche, anche qui abbiamo dipendenti che non hanno attualmente il Green Pass. Come la risolveremo? Non lo so. Sarà difficile. Io spero soltanto che non si dovrà arrivare né qui né nelle aziende del nostro territorio delle scelte di mettere in aspettativa non retribuite ai dipendenti, perché sinceramente credo che senza stipendio si faccia fatica molto ad andare avanti, tenuto conto anche degli ultimi aumenti che ci sono stati.